Siamo con Antonio e Raffaele per parlare di tennis in carrozzina e per parlare della sua bellissima storia, tutta da seguire. Allora, da dove vogliamo iniziare? Innanzitutto complimenti per la passione, per la voglia e per i risultati che hai sin qui conseguito. La tua storia? La mia storia parte da molto lontano, diciamo dal 70, io avevo un incidente con un motorino, avevo 15 anni e mezzo, quindi diciamo che a parte i primi tempi di riabilitazione dovuta, perché chiaramente poi abbiamo sempre fatto sport, quindi anche, diciamo proprio grazie allo sport, quindi anche rinunciato a tutte quelle che sono le famose terapie molto costose anche a carico dello Stato. Ecco perché io invito sempre, invito sempre a promuovere, quindi cerco di farlo per quanto riguarda la mia persona, anche per evitare, diciamo non solo, la passione, il divertimento in se stesso, e quindi anche evitare costose, costose fisioterapie che per quanto mi riguarda, cioè sono 40 anni di sport, quindi non servono a niente secondo, è solo mio parere comunque. Perché scegliesti il tennis oppure hai fatto anche le tue discipline? Allora, io i primi, per almeno 14-15 anni abbiamo giocato a basket, una decina di anni appunto con la squadra viterbese, 5-6 anni sono andato un po' a Roma, un po' in Abruzzo, un paio di anni a Foligno, quindi poi, diciamo, poi alla fine ho smesso. Appunto grazie al tennis, che appunto sono venuto a conoscenza tramite amici, ho voluto provare, tanto è vero che iniziamo, mai diversi anni fa, forse una ventina, proprio con Forniti, iniziamo, e quindi, diciamo, ho avuto un po' di esperienza, diciamo, nei primi anni, così, diciamo, proprio all'inizio, con Forniti. Poi ho cominciato, diciamo, a girare un pochino le varie associazioni in Italia, che mi mettevano in condizione, diciamo, di potermi allenare e quindi di seguirmi un pochino. E poi, diciamo, ecco, ho avuto due grossi interventi alle spalle, sono state operate le cuffie dei rotatori, quindi proprio in conseguenza di questi due interventi, quindi ho potuto giocare, diciamo, in un'altra categoria, che è definita quad, cioè quindi praticamente in teoria sarebbe per persone che hanno anche problemi agli arti superiori. E quindi, grazie a questa categoria, diciamo, ho potuto entrare anche in un ranking, diciamo, mondiale. E quindi mi ha permesso di, non solo di essere, diciamo, un atleta nazionale, cui ho partecipato, appunto, con l'Italia a diverse edizioni, forse 10-12 Coppe del Mondo, di cui anche una medaglia d'argento in Brasile, la prima, diciamo, in assoluto per il tennis in carrozzina italiano, e due medaglie di bronzo in Svezia. E quindi due Olimpiadi, partecipate alle Olimpiadi di Atene, alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo per Londra non sono riuscito a qualificarmi per proprio, diciamo, numero 13-14 del ranking mondiale e quanto passano solo i primi 12 al mondo del ranking. Un curriculum importante, comunque. Tante esperienze, tante emozioni. Sì, sicuramente. Sono sempre stato ai vertici delle classifiche mondiali, sono sempre stato, diciamo, nei top 10 di singolo. Nel doppio, addirittura, siamo stati anche numero 2 al mondo, con un altro ragazzo, un mio compagno di Grosseto, Polidori. E quindi, diciamo, ci siamo tolti belle, belle soddisfazioni. Ho partecipato a almeno 10 edizioni di un master di doppio. La mia classifica attuale di doppio è il numero 10, di singolo 14. Quindi spero, io spero sempre, di poterla migliorare. Non è facile, perché, cioè, a volte è anche difficile trovare chi ti segue con un certo, diciamo, con un certo impegno, perché serve veramente tanto impegno. Anche perché ci sono nazioni come, non so, l'Inghilterra, l'America, ma solo per fare degli esempi, ma poi Svezia, diciamo, un po' in tutto il mondo. Cioè, seguono tantissimo. Cioè, sono proprio, diciamo, le nazionali che prendono il forfior dei giocatori e li seguono. Anche sponsorizzandoli, dandogli, mettendogli a disposizione allenatori, fisioterapisti, eccetera. Ecco, capito lo sponsor e qui, diciamo, iniziano un po' i problemi. Capito lo sponsor e me, io sinceramente non, forse avevo anche titoli per poter chiedere, però personalmente non l'ho mai fatto, non ho avuto mai nessuno che, diciamo, sia interessato a questo. Per cui, diciamo, niente, che è un po' a carico mio. O la fortuna, che appunto, giocando in questa categoria, quindi giocando nei massimi, diciamo, livelli di tornei, c'è la possibilità di, diciamo, di un famoso prize, chiamiamolo prize money, cioè un premio in denaro, però, diciamo, è più un rimborso spesa che non altro. Per cui, diciamo, che ammortizzo quasi sempre le spese. Quindi già questo, forse proprio grazie a questo, cioè mi permette di continuare, perché sarebbe impossibile, perché come tutti sappiamo, cioè il tennis è molto, molto costoso. Piaggia aerei, trasferte, normale, materiale. Quindi, ho detto, grazie a questi rimborsi, i cosiddetti rimborsi, probabilmente riesco quasi sempre ad andare pari. A volte guadagni anche, cioè, 100 euro, a volte ce le rimetti, però alla fine, facendo un bilancio, siamo lì, insomma. Quindi, proprio grazie a questo, diciamo, sono invogliato tantissimo a continuare. Ecco, ricordiamo la tua società attuale. La mia società attuale è, io gioco con il Tarquinia, con l'associazione, diciamo, tennis Tarquinia. Il mio maestro è Alessio e Stefano, quindi sono due delle carissime, carissime persone. E quindi vado due volte solamente, perché, anche se mi hanno invitato di più, però sa, i costi, i costi di benzina, eccetera. Quindi, mi limito due volte. Una o due volte mi alleno con al massimo affinità, via Tennis Club. Una volta c'è un mio carissimo amico, Franco Cencioni, che è con molto impegno, quindi almeno una volta a settimana, un paio d'ore, me li dedica. Per cui, cioè, diciamo, quelle tre, quattro, cinque volte a settimana di allenamento. Ecco, abbiamo prima fatto qualche filmato, un po' di ripresa filmata mentre giocavi. Abbiamo visto, insomma, lo sforzo fisico deve essere indifferente. Eh, certo. Poi molto dipende pure dalle superfici. Noi giochiamo in tutte le superfici, diciamo, all'estero sono quasi tutte superfici abbastanza veloci, per cui anche la carrozzina scorre abbastanza. Poi a volte ci sono delle superfici in erba, cioè in erba sintetica, per cui qui veramente ti... Però sono contento anche di giocare in queste superfici, perché poi, oltre ad allenarti tecnicamente, diciamo, col tennis, fai contemporaneamente anche attività fisica, perché lo sforzo è veramente notevole. Conta più tecnica o forza fisica? Ma io direi la tecnica, oddio, io penso più la tecnica, perché a volte, cioè, puoi essere forte fisicamente quando ti pari, ma se non sai giocare, se non sai tecnica, cioè non vai... Sì, è anche importante avere, cioè, purtroppo noi, diciamo, nella disabilità c'è la possibilità, tutti, basta che hai una piccola disabilità, anche il 30-40% di disabilità, puoi giocare a tennis in carrozzina. Quindi è chiaro che uno che ha un amputato, facciamo un esempio, nei confronti di un paraplegico, è decisamente avvantaggiato. Però ciò non toglie che con una buona tecnica, cioè, puoi essere a... puoi competere, ecco. Tre big, Federer, Nadal, qual è il tuo preferito? Eh, vabbè, vabbè, cioè, sembra banale, ma il Federer è imbattibile, cioè, se non altro, per tutto. Classe, eleganza, testa. Classe, cioè, vabbè, cioè, è troppo facile, è troppo facile, capito? Un re del tennis. Eh, beh, sì. Senti, in conclusione, prossimi impegni, 2013, cosa avviene? 2013, sì, sto un pochino valutando, un pochino il budget, cioè, a volte, quindi, sono un pochino indeciso, un pochino indeciso se partecipare in Corea, che ci sono tre tornei, cioè, c'è un quarto in Giappone e Corea, però, questo, a aprile-maggio, anzi, anche aprile stesso ci sono altri due tornei in Sudafrica, molto grandi, quindi sto valutando, valutando un pochino, sicuramente, setto, otto tornei in Europa li farò tutti, perché in Europa, sai, è più vicino, quindi anche con vantaggio di viaggi con low cost, insomma, quindi sono molto abbordabili, anche da un punto di vista economico. Bene, comunque, ti seguiremo, Duccio Sport Life ti seguirà e resteremo sempre aggiornati. Di cose importanti c'è la Coppa del Mondo, probabilmente in Italia, era già deciso, lì a Cremona, però, purtroppo, poi, la giunta comunale, la giunta regionale, come sappiamo, della Lombardia, quindi c'era, cioè, perché si erano impegnati, diciamo, una fetta di contributi, e quanto sembra, siamo in attesa se salta o meno, quindi o probabilmente in Turchia, ma non, quindi imminente a maggio. Va bene, ci terrà i giornati e ci farà piacere seguirti. Volentieri, io vi ringrazio. Grazie a te e complimenti per impegno, passione, capacità. Grazie, io vorrei trasmetterla anche agli altri, guarda, perché veramente, ho detto, a volte il mio scopo, anche qui a Viterbo, io molte, molte volte mi sono interessato proprio a cercare di, cioè, a mie spese, cioè, sono andato lì, ho fittato il campo, ho preso dei ragazzi, andiamo, gli ho dato la mia carrozzina, gli ho fatto... All'inizio entusiasti, poi si perdono, cioè, mi dispiace per loro, perché non sanno quello che si perdono, perché è veramente, veramente bello. Se non altro, ti dà la possibilità di uscire di casa, di stare in mezzo alla gente, ma poi di muoverti, cioè, l'attività fisica è fondamentale, cioè, anche per tenersi in forma, insomma. Sicuramente, tu sei un bel esempio. Grazie. Grazie a te.